A Napoli al mezzogiorno non serve assistenza ma politiche e strumenti per uno sviluppo strutturale e duraturo che producano occupazione di qualità e crescita economica. E quanto sostengono CGL, Cisle e Will Napoli che hanno dato vita a un incontro con i lavoratori sulla piattaforma di proposte di CGL e Cisle e Will nazionali, in particolare sull'utilizzo degli oltre 22 miliardi di spesa da parte del governo che secondo i sindacati dovrebbe essere più mirato puntando su politiche che mettono al centro il lavoro, l'occupazione femminile giovanile e azioni rivolte al contrasto dell'esclusione sociale e la povertà, investimenti in infrastrutture materiali e sociali nell'industria. Presenti all'attivo unitario Walter Schiavella, segretario generale della CGL Napoli, Giovanni Sgambati, segretario generale della Wille Napoli e Luigi Sbarra, segretario generale aggiunto della Cisle nazionale. Solidità alla crescita del paese, si è discusso troppo di decimali, il tema non è di quanto si sfora il rapporto deficit-pille, il tema è come si utilizzano quelle risorse per creare occupazione e sviluppo e le proposte contenute nella legge di bilancio al nostro avviso non sono adeguate. Per noi è fondamentale che la proposta che abbiamo avanzato è innanzitutto che il governo sia in grado di convocare le parti, non vorremmo che si faccia una manovra senza neanche sentirci, anche perché gli argomenti, pensiamo soprattutto alla previdenza, pensiamo ai contratti pubblici, il mezzogiorno hanno bisogno di una risposta condivisa. Ci sembra assolutamente debole l'investimento sui temi della crescita, dello sviluppo, del lavoro. Il rischio è che noi utilizziamo una legge di bilancio in deficit solo per finanziare spese correnti e misure assistenziali.